Sly sarà molto rischioso. Hanno decisamente aumentato la sicurezza. Le torrette sono troppo ben protette per un attacco diretto. In condizioni normali proverei a sabotare il sistema, ma ci vorrebbe troppo tempo e noi non ne abbiamo. Non sappiamo quando Decibel sposterà di nuovo Lion. Potrebbe essere la nostra unica possibilità. Quindi cosa hai in mente Bentley? Da veri maghi dovremo usare fumo e specchi. Ma senza gli specchi. E cioè? Scancerò bombe fumogene sui punti strategici con l'elicottero radiocomandato per fare in modo che le torrette non vi vedano. Salim conosce ogni angolo della città come le sue tasche. Vi saprà guidare in un posto più sicuro. Speriamo abbia già fatto la siesta. Cercate di mettervi in salvo prima che il fumo si dirà di completamente. Se non volete avere i missili puntati addosso. Posso sganciare bombe fumogene con il tasto R1 e mettere il tubo con il tasto L1. Ok, Bentley. Vai con le bambini. Mine a bambini. Mine a bambini. Ai, questi casi sono veloci. Così di mandare al fuoco. Il fumo fa proprio male. Attenchi laggiù! Avversario Posta aerea Sapete bravo, Bentley Ok, Sly, tocca a te Ok, Salim, ci siamo Stammi vicino e non restare indietro Non preoccuparti, ti sto appiccicato Il turbo mi terrà fuori dai guai e lontano dagli attacchi delici Coprimi le spalle Colpo diretto Ma non utilizzano mai le munizioni? Ok, arrivo Disfrotto Così ne manderà il punto E vai proprio nel tutto esatto Il turbo non fa proprio male Forza, Sly, andiamo! Prima i vecchi, poi i belli No, no, vuoi dire prima i saggi e poi i giovani Voi due volete muovervi? Aspettiamo il sapientone, Bentley Vai con il fumo, amico Devo seminarli Vai con il fumo, amico Sapete leggere i segnali? Aiuto, papa Vine ovunque Molto diretto Avversario Volte in arrivo Mi stanno addosso Così vi manderà il fuoco Attenti laggiù Attenti laggiù Aiuto, papa Il turbo fa proprio male Ci siamo Sly Sly, Bion è poco più aversi Apriti, Sesamo Quel vestito ti rende un ladro migliore, Sly Non un genio Ora aiutami con la porta Chiuditi, Sesamo Hai avuto fortuna C'è un fettore qui dentro che mi fa lacrimare gli occhi Mi dispiace per il tuo amico Quella decibel è proprio crudele Beh, purtroppo credo che siano i calzini di Lion Ha sempre odiato fare il bucato Oh, forse stava solo proteggendo il suo senso dell'olfatto Collegami al dispositivo, Sly Che faccio saltare i codici Entrerrò nel sistema con una magia Che faccio saltare i codici Che faccio saltare i codici Sly ni Bene, particella ionica acquisita 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 Ma qualcuno devono aver incrociato il cavio Non mi sembra il processore più veloce sulla piazza, eh? Mi frammento il disco rigido Ti scambino i circuiti Mi vorrei a te orto omias? Preparati adesso, riformatato Ogni minuscola particella ionica è utile Un occhio solo? Capisco perché il tuo processore fa così schifo Vediamo cosa sai fare, polipevo al silicio Grazie a tutti Grazie a tutti Ogni minuscola particella ionica è utile Unico costante Unico costante Unico costante è più un arduo? Sì, sì, sì. I puretti ho il tuo video Ma qualcuno devono avere incrociato i cavi Credo che il tuo data basso abbia avuto un incidente Il tuo router deve averti indirizzato male Vediamo cosa sai fare, polipevo al silicio Il frammento disco rigido Il frammento disco rigido Corri a casa dalla tua scheda madre Ah ah, credo che il tuo data basso abbia avuto un incidente Un occhio solo Capisco perché il tuo processore fa così schifo Non c'è un'altra parte Non c'è un'altra parte Il tuo router deve averci indirizzato male E se starà mollendo l'hardware E scombino i circuiti Non c'è un'altra parte Non c'è un'altra parte Oh, ho avuto un incubo orribile Mi avevano incantato come un serpente E non riuscivo a liberarmi Non era un incubo amico mio Salim, c'eri anche tu nel mio sogno Mi portavi delle cose buonissime da mangiare Ma voi siete proprio fissati con il cibo Salim, chi è questo giovane impudente? Non preoccuparti È un amico, mi ha aiutato a salvarti In realtà è il mio assistente Assistente? Che storia è questa? Sly, reggi il gioco Meno gente sa cosa succede, meglio è Non ti pare? Ottimo Sarà una lunga giornata Oh, e non dimenticare i resti di quel dispositivo, Sly Ho quasi finito una mia piccola invenzione personale